Voga 2016. Completa questa frase. Grizzly è soddisfatto. Questo sicuramente è il modo di riassumere questa maratona, la maratona di quest'anno. Mi è piaciuta tantissimo, e sono soddisfatto dei risultati che ho ottenuto, dei risultati che ha ottenuto la maratona, di come qualche youtuber mi abbia imitato, abbia cercato di imitarmi un po' mi dispiace che qualcuno abbia abbandonato a metà strada, però sono soddisfatto per come sono andate le cose. È stata un'esperienza interessante, noto io stesso che comincio a guardare con meno soggezione l'obiettivo della telecamera, è una cosa a cui non ero abituato, e in realtà non sono abituato, perché quando faccio Diario di Viaggio on the road principalmente non guardo l'obiettivo, quindi non guardo direttamente come negli occhi , per cui per quanto possa sembrare strano, quando devo fare un vlog in cui dovrei guardare l'obiettivo della telecamera, invece non mi viene. Adesso lo trovo un pochino più naturale, lo trovo un pochino più normale, quindi sicuramente ha dato un risultato piacevole, interessante a me. Spero che abbia dato dei risultati anche agli altri, spero soprattutto di avervi intrattenuto in questi 30 giorni. Io sono soddisfatto, quindi la frase che completo appunto è «Grizzly è soddisfatto». Tu invece vuoi farmelo sapere con un commento qua sotto, oppure con un video-risposta se stai partecipando alla Maratona Voga? Fammi sapere il tuo video, fammi sapere qual è l'aggettivo con il quale completi la frase. Io sono Grizzly, questo è Voga 2016, noi ci vediamo domani per concludere la Maratona.